Inaugurato un nuovo store Estra a Montepulciano in provincia di Siena Spazi più ampi e confortevoli nel nuovo store aperto lunedì, martedì e giovedì al mattino e al pomeriggio E' arrivata la bolletta smart di Estra, immediata, facile da leggere, gratis per tutti i clienti, gas e luce, sostenibile Con la bolletta digitale niente più posta cartacea, niente carta, zero emissioni di anidride carbonica Basta iscriversi all'area clienti di Estra Scade il 30 ottobre il termine per le candidature alla terza edizione della call to action Estra per lo sport e l'energia delle buone pratiche Il premio riservato alle associazioni che promuovono inclusione e solidarietà Estra ancora al fianco dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto La società energetica continua ad essere il main sponsor del club di rugby Il marchio Estra è infatti presente da anni sulle maglie dei Cavalieri